Dovevate vedere la piena era una risa squadre E praticamente ho piaciuto quella jump Davanti a pesce secco gli ho detto Pesce secco vola via E praticamente Appena l'ho piazzato è volato via per aria E' stato bellissimo raga dovevate vederlo Perché lui non voleva jumpare Jumpato per colpa mia E' stato bellissimo Ancora questo Comunque mi sto facendo le risa squadre perché Si ottengono molta più esperienza Rispetto alle partite normali Infatti come vedete Se guardate dalla mia barra Sono già Un buon Un buon numero diciamo Una buona parte di livello Ecco Dov'è il coglione Ancora quello Guarda che roba Si salva sempre Ok Vedete che Mi faccio una Gran parte di livello In poco tempo Il risa squadre Quindi ne vale veramente la pena Fatelo Se ve lo potete fare Mi sono suicidato Però almeno lui non ha jumpato God of Morriccio E' 'ta Grazie a tutti. Va bene, abbiamo vinto. Perfetto. È stato epico, regà, dovevate vederlo?